Non temete, non solo un'allucinazione e tanto meno una carta del mercante in fiera, ma bensì Paolo Bonolis, insifatte vesti perché? Perché vi debbo presentare quello che sarà il grande speciale di Canale 5 alle 20 e 40 su Canale 5 il 31 dicembre e viva l'allegria! Dice E che succede? Ma come che succede? Ne succederanno di cotte e di crude, avremo tantissimi personaggi Comici, ballo, canto, allegria, musica, uno speciale dedicato a tutta la famiglia, ai bambini, alle mamme, ai papà, alle nonna, agli zia, ai cugini E a tutti quelli che hanno il coraggio di vedermi in queste vesti, ma io, sappiatelo, sono solamente la punta dell'iceberg Ci sarà molto, ma molto di peggio che mi vergogno quasi a dirvelo, seguiteci perché questa trasmissione sarà un vero pugno dello stomaco Eccolo, voglia! Ottimo lavoro! Vai! Ma sei farsa!